Mentre è stato confermato l'avvio della stagione termale per il 15 aprile con l'apertura degli stabilimenti di via 20 settembre per 5 settimane in più rispetto al 2023, ovvero fino al 16 novembre con pausa estiva dal 2 luglio al 3 agosto, la città di Aquiterme guarda già al 2025, quando scadrà la prima delle tre concessioni sulle acque termali che spezzerebbe l'attuale monopolio. Dell'argomento si è discusso nell'ultimo Consiglio Comunale, nel quale in merito è stata presentata dal consigliere di minoranza Carlo De Lorenzi una mozione. Abbiamo chiesto, ha spiegato De Lorenzi, che venga avviato quanto prima lo studio già finanziato dalla Regione per definire il percorso da seguire dal maggio 2025, auspicando che il Comune diventi il coordinatore delle operazioni in concerto con altri enti preprosti. Il finanziamento regionale nel mese in corso sarà trasferito in provincia, che è l'ente che si occuperà delle concessioni e che, come ha assicurato il Presidente Enrico Bussalino, si metterà al lavoro senza perdere tempo. Il Presidente della Commissione Terme Luigi Gilardi ha però sottolineato le lacune legislative in merito a questo tipo di operazioni, che andranno colmate quanto prima. Il Governatore regionale Alberto Civio per questo ha già deliberato di stanziare 10.000 euro per la provincia, affinché possa studiare le norme relative alle procedure di messa a bando o rinnovo delle concessioni. Il provvedimento consentirà alla Regione di poter legiferare in merito e alla provincia di avere un riferimento normativo per operare in maniera corretta. Per questo è opportuno, ha spiegato il Sindaco Danilo Rapetti, attendere le missioni di una norma adeguata. Intanto, per ora proseguito il primo cittadino, siamo soddisfatti per il primo risultato ottenuto, che è quello di conoscere con un adeguato anticipo le date di avvio e di chiusura della stagione termale. In questo modo, a beneficiarne sarà tutto il tessuto economico della città. Infatti, come ha affermato il Presidente dell'Associazione Albergatori, Monica Volante, anche nelle attività recettive stanno arrivando le prime prenotazioni. Per gli stabilimenti di via 20 settembre, dove ancora proseguono i lavori di manutenzione degli impianti dopo gli ultimi inconvenienti che avevano riguardato il reparto inalatorio, il via alle prenotazioni è fissato per il 19 febbraio, il lunedì dalle 14 alle 17 e dal martedì al venerdì dalle 8 alle 12,